Bentrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. In apertura cominciamo con la situazione generale in Europa. L'area di bassa pressione si è addensata sulla Gran Bretagna portando piogge e temporali, mentre qualche residuo è rimasto in Germania ed in Francia. Sulla Scandinavia sì che ci sono ancora forti i temporali. La situazione per quanto riguarda il sud Italia per la giornata del 6 settembre 2014 prevede sulla Puglia cielo sereno alternato a locali e piogge che saranno comunque di breve durata, così come in Calabria, mentre Sicilia e Sardegna il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Per il resto sulle altre regioni, condizioni generali di bel tempo, soltanto in Liguria qualche breve pioggia. Le temperature saranno comprese tra 26 e 18 gradi, venti di direzione variabili e mare localmente mosso l'Adriatico ed il Mar Ligure.